Beh, diciamo che adesso abbiamo metabolizzato un po' la cosa in questi giorni, perché è una cosa che già stava nell'aria da un paio di giorni. Vole parole, provando gli allenamenti, sono rimasto bloccato con i tendini di Achille. C'è un problemino che già mi portavo dietro da un po' di tempo, ho messo a partire con il fisioterapista e tutto. Ovviamente, lo mostro anche in preparazione, caricando un po' con il lavoro, la corsa, sono rimasto, durante un allenamento sono rimasto bloccato con i tendini di Achille. Abbiamo aspettato un po' di giorni prima di comunicarlo per vedere se riuscivamo a recuperare, ma è del tutto impossibile perché non riuscivo proprio a camminare, quindi questo mi intervivo pure di allenarmi. Quindi abbiamo ritenuto un fortuno fermarci per recuperare un po' da questo impossibile. Insomma, stai cercando di migliorare la tua condizione fisica per poi riprovarci in un'altra occasione, perché tu, immagino, da campione quale sei ci volevi arrivare al meglio a questa sfida. No, infatti era un match importantissimo per me, un match titolato con un ragazzo molto votato, quindi io dovevo arrivare là al 100%, sono abituato ad affrontare i match al meglio per meglio, quindi a prescindere da tutto ho preferito fare queste scelte e rimandare il match. Infatti il match non è che è saltato, ma è stato solo rimandato, si farà a giugno questo titolo e quindi avremo pure più tempo per prepararci meglio.